L'equilibrio nelle emissioni di CO2 è fondamentale per il pianeta, ma le nostre azioni lo hanno modificato. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo ricreare l'equilibrio. Il primo passo? Raggiungere zero emissioni nette, subito. In che modo? Emettendo molto meno carbonio e assorbendone molto di più. Per ripristinare l'equilibrio basta fare due cose, emettere meno e assorbire di più. Per ridurre le emissioni il più possibile dobbiamo passare dai combustibili fossili alle rinnovabili, da diesel e benzina a veicoli a emissioni zero. Cambiare il modo in cui mangiamo e costruire infrastrutture ed edifici più efficienti, così ridurremo il nostro impatto sul pianeta. E per quanto riguarda il resto delle emissioni? Possiamo aiutare il pianeta ad assorbirne di più, proteggendo alberi, mangrovie e alghe. Per ricreare l'equilibrio nel pianeta aspetta a noi. Zero emissioni nette, emettere meno e assorbire di più.